Olè, 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 un toporocco, un toporocco! Sono passati pochi istanti dal fischio finale della partita Marocco-Francia, ma i tifosi rosso-verdi, nonostante la sconfitta, dimostrano tutta la loro sportività. Bandieri in mano ci dicono abbiamo vinto lo stesso. Noi siamo fieri lo stesso, molto, abbiamo vinto lo stesso a Divade fino a qui e già questo è tanto per noi, ci dispiace per loro perché meritano di vincere, perché hanno giocato, hanno giocato anche molto bene, però va bene. Semifinale dei mondiali, un traguardo storico per il Marocco, sguardi incollati sul video. Un po' di delusione, quella sì. Delusa? Tanto, mi dispiace tanto, vabbè, così magari la prossima volta andrà. Stiamo giocando contro una squadra forte, non è. Siamo stati bravi, abbiamo portato, insomma, siamo arrivati fino a questo livello e siamo contenti, va bene così, dai. Il gioco è un divertimento e quindi speravamo di vincere, ma è andata così, lo stesso, siamo contenti. Io sono italiano, ma questa sera mi sentivo marocchino con loro e sono stati bravi a arrivare fino a qui, sono stati bravi. Gli abbracci in campo fra le due squadre e il sorriso dei tifosi consapevoli che questo, ci dicono, è solo l'inizio. Sei la più giovane tifosa qui del Marocco? Voglio dire solo che siamo stati fortunati e vabbè, almeno ce l'abbiamo fatta ad arrivare in semifinale, perché esiste la fortuna e la sfortuna. Chissà, magari il prossimo anno riusciremo a vincere la Coppa dei Mondiali. Una bellissima sera, due nazioni, due religioni e quello che ci vorrebbe nel mondo. Ci siamo divertiti per un unico scopo e non per la guerra. Grazie.